Sono seriamente preoccupati per il prossimo carnevale invernale, in programma per il 24 e 31 gennaio e la prima domenica di febbraio. Il tempo stringe, dicono i meistri carristi, che non si sentono considerati e che chiedono risposte sul progetto presentato le scorse settimane, sia alla carnevalesca, ente al quale viene affidata l'organizzazione dell'evento, che all'amministrazione comunale, garante delle tradizioni nel cui statuto è sancito il ruolo di Fano, città del carnevale. Noi abbiamo presentato un progetto per una riqualificazione del carnevale, un progetto anche abbastanza ambizioso, tra virgolette, relativo a quelle che sono le disponibilità finanziarie, però non abbiamo ancora ad oggi avuto una risposta ufficiale su quelle che poi potrebbero essere davvero le costruzioni che dovremmo iniziare perché il tempo davvero sta fuggendo, rimangono oramai poco più di tre mesi e per poter fare un lavoro che abbia un senso ci vogliono almeno quei giorni per poter realizzare un'opera degna del carnevale di Fano che è una manifestazione molto importante, almeno noi ci crediamo. L'eventuale decisione della carnevalesca di organizzare un'edizione con carri vecchi, escludendo i maestri carristi che ne sono anima e motore, ricordano, significherebbe la fine del nostro carnevale, da sempre considerato la manifestazione più importante della città e della regione. Secondo loro questo sarebbe la fine di una tradizione artistica e artigianale, una fine concludono giorno dopo giorno, sempre più vicina. Il problema del carnevale non sono i soldi, il carnevale i soldi li può apportare, se il carnevale viene continuamente organizzato nel corso dei vari tempi, ormai da tempo, in un modo non consono alle sue potenzialità, sarà sempre rimessa. Il carnevale ben organizzato è un guadagno per la città, quindi che finisca questo interrogativo che i carri, i carri, i carristi devono pagare sempre le responsabilità di altri e che il carnevale è un costo. Il carnevale deve essere un investimento, una cultura e uno sviluppo della città.